Antipasto e assaggino, se iniziate a mangiare queste polpettine sarà davvero difficile smettere. Sono piccoli bocconcini di carne tritta, impastati e poi soffritti per diventare un po' dorati e restare teneri all'interno e infine uniti alla cipolla e irrorati da aceto e zucchero, il tradizionale agrodolce molto apprezzato nella cucina meridionale e soprattutto quella siciliana. E di fatti queste polpettine in agrodolce vengono quasi sempre servite nelle trattorie e nei ristoranti siciliani insieme a tanti altri antipasti. Farle a casa è semplicissimo, andrò ad utilizzare 300 g di macinato, 50 g di mollica fresca di pane, 40 g di formaggio grattugiato, un uovo, del prezzemolo, un pochino di acqua e poi ancora a fare da contorno 2 cipolle rosse, mentre per l'agrodolce 100 g di aceto balsamico e 25 g di zucchero di canna. Iniziamo dall'impasto delle polpette, quindi metto la carne trita in una ciotola. Aggiungo il formaggio grattugiato, l'uovo intero, trito un ciuffetto di prezzemolo e aggiusto di sale e pepe quanto basta. Metto anche la mollica di pane fresca oppure del pane ammollato. Inizio quindi ad impastare strizzando bene con la mano il composto per amalgamare tutti gli ingredienti. Mi aiuto anche con qualche goccio di acqua per ottenere una palla omogenea e morbida. Vado a prelevare 20 g di impasto per volta per ottenere piccole polpettine tutte uguali. Scaldo un po' di olio di olive in un padellino e le lascio soffriggere un paio di minuti, giusto il tempo di fargli prendere colore. Ora che le polpettine sono pronte, mi dedico alle cipolle che vanno sbucciate e tagliate a rondelle di mezzo centimetro. Mi munisco quindi di una padella più capiente, aggiungo ancora un fondo di olio, metto le cipolle e le faccio rosolare per 5 minuti. Mescolo di tanto in tanto, aggiusto di sale e pepe e aggiungo un po' di acqua, così le faccio cuocere per altri 5 minuti mettendo il coperchio. Nel frattempo posso preparare l'agrodolce, quindi in un bicchiere verso l'aceto, altrettanta acqua e lo zucchero di canna. Adesso che le cipolle sono già abbastanza morbide, non mi resta che sistemare su di esse tutte le polpettine e poi bagnare con l'agrodolce e cuocere ancora 5 minuti con il coperchio. Trascorsi 5 minuti vado a togliere il coperchio e aspetto che il liquido si ritiri, diventando anche un po' caramellato. Vedete, sul fondo della padella dovranno apparire delle piccole bollicine. Il piatto è pronto, potete gustare le vostre polpettine subito, ma seguite il mio consiglio, lasciatele riposare a temperatura ambiente per un paio d'ore se volete servirle per la cena oppure in frigorifero per il giorno dopo perché vi assicuro diventeranno molto più buone. Trovate questa ricetta su cibodoc.it o vivomangiando.it insieme a tante altre.